E intanto mi voglio ricollegare a quello che è stato detto, noi ci viene detto come i cristiani che dobbiamo rendere ragione della speranza che è in noi e Don Tonino Bello diceva che la speranza la dobbiamo anche organizzare, dobbiamo dare dei segnali che si può vivere su questa terra in maniera dignitosa. E io voglio partire dalla Fratelli Tutti, scusate, una slide che ci aiuta anche un pochino a vedere quello che mentre io parlo, vedete quello che c'è scritto. Allora, vediamo se la vedete, vedete il mio schermo, sì no? Ecco, cosa ci dice? Due cose molto belle nella Fratelli Tutti, no? Prima di tutto ci dice che il mercato da solo non basta, non basta il mercato, anzi l'economia, la società non può funzionare senza solidarietà e di fiducia reciproca. E quindi in un certo senso è come se senza la carità non può andare avanti la società all'economia, no? Abbiamo bisogno, il sistema ha bisogno di solidarietà e di fiducia. E una parola molto bella il Papa lo dice sulla carità politica, cioè nella Fratelli Tutti si parla da una parte della, diciamo, del buon samaritano e dall'altra della politica, le due grandi forme di carità, no? E qui il Papa riprende questo diritto, è carità stare vicino a una persona che soffre, ma è anche carità tutto ciò che si fa senza avere un contatto diretto con quella persona, per modificare le condizioni sociali che provocano la sua sofferenza. E poi va proprio un esempio, se qualcuno aiuta un'anziana a attraversare un fiume, è squisita carità. Il politico che gli costruisce un ponte, anche questa è carità. E lo stesso sul mangiare. Quindi chiaramente noi siamo invitati da una parte a farci prossimo alla persona che... dall'altra però siamo invitati anche a risolvere i problemi che abbiamo di fronte, no? E in questo, sempre nella Fratelli Tutti, al punto 175, il Papa ci dice, attenzione, il compito della carità politica non è solo dell'eletto, del politico eletto, del sindaco, che lasciamo solo magari a gestire cose più grandi di lui. È fondamentale il ruolo delle aggregazioni e delle organizzazioni della società civile. Perché queste, come vedete, dice, aiutare le debolezze della comunità internazionale, la sua mancanza di coordinamento, la sua carenza di attenzione. Quindi in questo, in questa azione della società civile, si rende concreto il principio di sussidiarietà. Sapete che nella dottrina sociale il principio di sussidiarietà ci dice che quando c'è un problema, il modo migliore per risolverlo è che ci pensino quelli che sono vicini, i più piccoli e più vicini, e non i più grandi e più lontani. Quindi la sussidiarietà vuol dire partecipazione, azione e delle organizzazioni a livello minore, che integrano il ruolo poi dello Stato e dei rappresentanti delle istituzioni. Quindi c'è una chiamata diretta a noi, siamo noi che dobbiamo risolvere il problema, ma non solo sul piano dell'assistenza individuale, direi sul piano politico. E oggi per risolvere il problema dobbiamo avere un metodo, il metodo io dico è quello del dottore, il dottore, noi siamo dei dottori sociali, cosa fa il dottore? Il dottore prima deve studiare anatomia, cioè deve studiare il corpo umano e deve capire quali sono le malattie del corpo, no? E quindi noi dobbiamo studiare il corpo sociale e capire quali sono le malattie di oggi. Beh oggi fondamentalmente abbiamo quattro tipi di malattie, io direi. Una è la malattia che genera le povertà, le diseguaglianze, quindi tutto il problema della concorrenza al ribasso sul costo del lavoro, come si interviene su questo anche attraverso la formazione, l'istruzione. Poi c'è la malattia dell'ambiente, no? È un po' strano, uno pensa ma perché il Papa con la laudato si si mette a parlare della natura, no? Ma il senso è che la natura non è un ornamento, non è la pianta che vediamo, eccetera. La natura, io dico, noi siamo come pesci nell'oceano, è qualcosa dentro cui noi viviamo. La natura, voi dovete pensarla, come si chiama l'ecosistema, è qualcosa che ci dà dei servizi. Cioè noi viviamo, siamo calati in un qualcosa che ci dà l'aria pura, l'acqua non contaminata, la fertilità dei suoli, suoli che non sono soggetti al dissesto idrogeologico, alle frane, agli smottamenti. Ecco, quindi se noi non ci preoccupiamo della natura, della qualità della natura, i servizi che la natura poi ci dà sono scadenti. Ci dà aria inquinata, ci dà acqua non contaminata, ci dà suoli che si impoveriscono sempre di più, ci dà calamità come purtroppo accade sempre più frequentemente. perché noi dobbiamo assolutamente preoccuparci di questa seconda malattia. Poi ci sono altre due malattie che forse, diciamo, noi cristiani siamo più capaci di cogliere rispetto al pensiero, diciamo, laico, materialista. Una è quella della demografia. Quest'anno avremo quasi 300.000 morti più dei nati, quindi l'Italia sta perdendo popolazione in maniera drammatica. La differenza tra nati e morti ormai dura da 6-7 anni. è un paese che deve spopolarsi con problemi economici enormi. Se non ci sono giovani a lavorare, il sistema non è produttivo. Se ci sono un lavoratore per 1,5 lavoratori, per una persona che o è bambino o è in pensione, il sistema del welfare non si regge. Quindi il problema della natalità è un problema importante. Il terzo problema, il quarto problema, scusate, è quello della povertà di senso. E questo forse lo vediamo solo noi. Il Papa lo dice. Che ci resterà dopo la pandemia è quella della povertà di senso. L'uomo è prima di tutto un cercatore di senso. E la povertà di senso del vivere uccide. Guardate che ci sono studi che dimostrano che quando le persone, ma lo sappiamo, quando le persone dicono la mia vita non ha senso, ha poco senso, quelle persone rischiano di ammalarsi e di morire prima. Negli Stati Uniti addirittura le persone sopra i 50 anni hanno cominciato a vedere aumentare il loro tasso di mortalità prima del Covid. E questo perché si è diffuso di una malattia che si chiama epidemia di morti per disperazione. Cioè persone che perdono il senso di vivere. Le nostre società stanno diventando sempre più povere nell'offrire questo senso di vivere. E quindi chiaramente noi come credenti la risposta della fede è la risposta più piena alla domanda di senso. Cosa c'è di meglio di avere una risposta di senso dove c'è un Dio che ti vuole bene, eccetera, eccetera. Però chiaramente noi dobbiamo lavorare anche con i non credenti. E allora il terreno comune su cui noi possiamo dialogare. Beh, sicuramente il terreno comune è quello della fraternità. Della fraternità e della generatività. Questa è la parola chiave che sempre di più noi usiamo, no? Avete sentito anche altri amici, Mauro Magatti, con le settimane sociali, eccetera. Come la spieghiamo la generatività? La spieghiamo partendo da queste due bellissime frasi. Una è stata detta da Antonio Genovesi, che era un prete che fu uno dei primi professori di economia politica a Napoli, ai tempi di Adam Smith. E l'altro da un laico, John Stuart Mill, fondatore dell'economia anglosassene. Cosa ci dicono? Ci dicono un segreto profondo della natura umana, che se noi siamo generativi, la nostra vita è ricca di senso e felice. Essere generativi vuol dire far sì che la nostra vita possa dare un contributo positivo a vite altrui. E quindi Genovesi ci dice, quanto più si opera per interesse, tanto più, pur che non si sia pazzi, si deve essere virtuosi. È legge dell'universo che non puoi fare la nostra felicità senza fare quella degli altri. E John Stuart Mill, che è un uomo laico, lui dice, non credente, nel senso non credente, lui dice sono felici solo quelli che si pongono obiettivi diversi dalla loro felicità personale. Cioè la felicità degli altri, il progresso dell'umanità, arte e occupazione, perseguiti non come mezzi, ma come fini in se stessi. Aspirando a qualche altra cosa, trovano la felicità lungo la strada. Quindi più la nostra sentiamo, io dico che dentro di noi abbiamo come un termometro, la nostra vita è utile, serve a migliorare, a fare del bene alle vite di qualcun altro, tanto più ci sentiamo utili, ci sentiamo ricchi di senso. Quindi questo principio della generatività e della fraternità diventa il principio chiave che oggi anima un po' il nostro impegno e la nostra attività sociale. E noi ci abbiamo creduto alla lettera e quindi abbiamo detto se la felicità è generatività, quello che dobbiamo fare è mettere le persone generative. Una delle cose più belle da fare è mettere assieme persone generative. Perciò abbiamo fatto nascere la scuola di economia civile che conoscete Stefano Zamagni, Luigino Bruni, Sola Alessandra Smerilli, tutte persone che lavorano nel mondo della cultura per portare avanti questo nuovo modello economico, un modello dove le imprese non guardano solo al profitto, ma guardano anche all'impatto sociale e ambientale e quindi sono ricche di senso anche per chi ci lavora, dove i cittadini saranno costruire relazioni, sono esperti nelle relazioni, dove gli obiettivi sono quelli della generatività. E a destra è un po' il braccio operativo della scuola di economia civile, cioè una rete delle 46 organizzazioni italiane, sindacati, associazioni di consumatori, associazioni, ACLI, eccetera, che lavorano per portare avanti questo principio della generatività. Ora passiamo da questo a quello che noi possiamo fare, quindi questa visione, noi come la portiamo nel mondo? Cosa possiamo fare? Beh, innanzitutto dobbiamo cambiare alla luce della generatività il modello di costruire il welfare. Guardate, il welfare, voi poi lo sapete perché lo fate, il welfare non è dare un obbolo, non è solo dare denaro, perché il Papa ha coniato questo strano termine degli scartati, il Papa parla quasi più degli scartati che dei poveri, il povero è uno che non ha i soldi, lo scartato è ancora peggio, è una persona che è messa ai margini, non serve più alla scartata, uno che non può rendersi utile a nessuno, è una persona la cui vita è povera di senso, non può essere generativa. Allora il segreto del welfare è rimettere lo scartato, non dico che deve diventare diciamo pietra d'angolo, ma rimetterlo nella società, ridargli la possibilità di dare. Jean Danielou, il padre conciliare, diceva se sei, se ami qualcuno chiedigli qualcosa in cambio e allora noi il welfare è un paradosso perché se devi dare qualcosa allora sei vivo, sei generativo. E allora come si fa? Beh concretamente noi lo facciamo quando negli empori della solidarietà i beneficiari non vengono solo a prendere il pacco ma diventano partecipi di quell'opera oppure quando facciamo il reinserimento lavoro nell'agricoltura sociale, quando reinseriamo categorie deboli, disagiate, quando facciamo economia carceraria, quando promuoviamo la dignità dei disabili o dei disabili psichici a trazione la salute. C'è una proposta di legge in Parlamento molto bello su questo. Cioè quando puntiamo al reinserimento delle persone e la generatività come vedete ha questi quattro verbi nel suo dinamismo. desiderare far nascere, accompagnare e lasciare andare. Noi l'abbiamo trasformata con la classifica di avvenire in una classifica delle province italiane quindi adesso per esempio nella regione Lazio nel lavoro del governo stiamo cercando di portare la generatività come indicatore di benessere quindi premiare prima i progetti che producono più generatività i progetti che coinvolgono la partecipazione e l'attivazione di un numero maggiore di persone possibili. Il nostro slogan è questo puoi avere reddito salute e istruzione ma se passi la giornata sdraiato sul divano non sei felice. La felicità non ha a che fare solo con le dotazioni ma con la capacità di mettersi in gioco di sentirsi utili. Ora tutto questo diciamo per noi sono tante cose allora io vi farei vedere qui alcune iniziative importanti che ci possono rendere protagonisti ve li faccio vedere con un sito web vediamo se funziona quest'altra condivisione che è la seguente ecco qua ci siamo perfetto allora innanzitutto vedete questo è cosa abbiamo fatto con Next abbiamo messo in rete tutte queste realtà del paese e abbiamo detto cerchiamo di cercare cerchiamo in tutto il paese le buone pratiche andiamo a cercare le aziende più sostenibili le aziende che promuovono la dignità del lavoro la tutela dell'ambiente poi abbiamo deciso di diventare qui ogni punto della cartina dell'Italia è una delle 500 aziende che fanno parte di questa rete della sostenibilità e poi abbiamo detto non ci basta vogliamo diventare partner di queste aziende e quindi abbiamo costruito un sito online che come vedete è un sito dove siamo diventati partner di tutti i prodotti della legalità pensate Libera Terra pensate a Goel Bio che viene dal progetto Policoro pensate all'agricoltura biologica diventiamo quindi partner e in un certo senso io dico facciamo concorrenza ad Amazon cioè promuoviamo la vendita dei prodotti sostenibili quindi qual è l'idea poi nostra è quella famosa del voto col portafoglio cosa vuol dire vuol dire che alla fine ci rendiamo conto che nell'economia noi siamo importanti perché l'economia è fatta di domanda e di offerta e noi siamo la domanda noi siamo quelli che decidiamo quale impresa vince quale impresa perde e dobbiamo usare questo potere che abbiamo questo voto col portafoglio di cui parla la carità sinveritate di cui parlano le encicliche lo dobbiamo usare per premiare proprio quei prodotti più sostenibili dicevamo prima in un'intervista oggi con un sindacalista dicevo ma i sindacati oggi fanno fatica a difendere i lavoratori poco specializzati pensate ai fattorini che portano i prodotti in giro non c'è un sindacato che li difende oggi i consumatori devono diventare i sindacalisti di complemento sono i consumatori che hanno il potere di aiutare i più deboli e lo possono fare votando col portafoglio quindi votare col portafoglio vuol dire appunto premiare questi prodotti e oggi abbiamo tantissime occasioni per farlo abbiamo informazioni abbiamo dobbiamo diffondere questa cultura questa consapevolezza in rete sui social media lavorare insieme sui social media per diffondere questa cultura oggi stiamo lavorando molto anche su quelle che sono le difficoltà di prezzo voi sapete uno dice ma poi i prodotti costano di più ecco ormai diciamo anche questo non è non è tanto più vero c'è una storia molto bella che si chiama la marca del consumatore trovate qui è nata in Francia i francesi si sono accorti sentite questa storia quanto è interessante in Francia c'era un 30% in più di suicidi tra gli allevatori di latte produttori di latte perché i prezzi di mercato erano talmente bassi da non consentire la sopravvivenza dell'azienda e allora i consumatori si sono alleati si sono uniti hanno formato un'associazione sono andati a parlare con i produttori hanno creato un loro prodotto che si chiama il consumatore vedete dice chi è il padrone dice il padrone siamo noi e in poco tempo in un anno neanche hanno raggiunto il 7% del mercato hanno venduto 120 milioni di litri di latte e pensate quanto ci voleva per evitare che il produttore di latte finisse sull'astrico 7 centesimi 7 centesimi in un litro di latte e loro si divertono anche a calcolare quanto ci vuole in un anno in un anno basta spendere 4 euro in più 5 euro in più per comprare un latte che dà dignità quindi vedete che anche il discorso del prezzo non funziona ce lo possiamo permettere tutti 5 euro in più questa cosa in Italia è nata adesso con la pasta del consumatore e la passata del pomodoro ed è molto bello perché sono i cittadini che hanno deciso volontariamente di aiutare questi produttori quindi ecco io vi ho fatto vedere un po' di esempi un altro che vi voglio far vedere molto bello con cui stiamo incominciando a lavorare si chiama Sbem Sbem è un'idea anche qualcuno di voi adesso ha sentito parlare sicuramente di cashback chi è che ha sentito parlare di cashback se ne sta parlando per fortuna perché così noi possiamo parlare del nostro cashback che cos'è il cashback è molto semplice se voi spinti dal desiderio appunto di cambiare il mondo attraverso il voto col portafoglio trovate due o tre persone che lo fanno assieme a voi beh c'è il cashback vi ritornano indietro dei soldi quindi alla fine poi andate sul vostro acquisto magari pagate meno di quello che pagate all'hard discount ecco quindi io vedete sono molto concreto anche perché le cose devono essere concrete e con questo progetto di Sbem non solo comprate i prodotti dei campioni della sostenibilità ma potete anche sostenere un vostro progetto un progetto della carita su un progetto di qualche altra organizzazione insomma ci stiamo organizzando nel modo migliore possibile per promuovere tutte queste novità e l'ultima cosa che vi è proprio quella delle settimane sociali le settimane sociali di Cagli e di Taran che vanno verso Taranto novembre hanno rimesso in moto adesso questo percorso qui siamo tutti coinvolti il percorso delle buone pratiche cioè la ricerca sui nostri territori delle buone pratiche andiamo a cercare quelli che già ce l'hanno fatta noi sapete che un invito un po' alla buona alla speranza è quello che dice yes we can no? sì possiamo farlo ecco noi l'abbiamo cambiato in yes we sì possiamo farlo se qualcuno ce l'ha fatto già da qualche parte cioè il sì possiamo farlo acquista forza e vigore se già c'è qualcuno che ci ha dimostrato che si può fare qualcosa di buono così come le realtà che vi ho fatto vedere e quindi voi siete invitati come tutte le diocesi di tutta Italia a cercare nel vostro territorio aziende attraverso la pastorale del lavoro aziende comuni o a raccontare i vostri stili e testimoniarli per poter fare poi una raccolta che ci porterà a costruire una cartina del paese un po' come quella che avete visto prima quindi per raccogliere un pochino le buone pratiche sulla base di queste buone pratiche puoi proporre delle politiche per il paese io oggi diciamo finirei qui ho voluto parlare soprattutto di quello che possiamo fare noi perché questo mi era stato questo stile di vita è evidente poi che a fianco di questo lavoro dal basso dei cittadini c'è il compito e in particolare però è un compito della politica che non è separato non è disgiunto è collegato a quello che vi sto dicendo perché qual è allora il ruolo della politica nell'economia civile non è quello di decidere tutto da solo o di governare tutti i processi economici ma è quello di diventare levatori delle energie della società civile la politica deve aiutare queste energie a mettersi in moto le energie dei cittadini e delle imprese che è il lavoro un po' che in questo momento anche con la regione Lazio e come consigliere del Ministro dell'Ambiente cioè mettere in moto dei percorsi che portano cittadini e imprese a fare queste scelte attraverso certificazioni attraverso aiuti attraverso ecco questo è un pochino quindi concludo con la frase che mi piace di più di Papa Francesco che è sempre una frase sulla generatività lui l'ha detta nell'Evangelii Gaudium l'ha ripetuta anche in Fratelli Tutti lui ha detto il tempo è quello che conta nell'azione sociale non è tanto occupare degli spazi di potere tanto per occuparli per mettere la bandierina ma è mettere in moto dei percorsi dei processi che cambiano le cose lentamente nel tempo ecco noi vent'anni fa abbiamo lanciato un seme per farvi un esempio con la Banca Etica abbiamo costruito il primo fondo di investimento che votava col portafoglio che si chiama Etica SGR ieri ci siamo riuniti e abbia che ci aiuta e tutto quanto ieri ci siamo riuniti per fare riniziare il nuovo percorso e ci siamo accorti che dopo vent'anni questo seme ha fatto sì che quasi tutti i fondi di investimento oggi vogliano imitarci vogliano dire anche noi votiamo col portafoglio molto lo fanno per interesse per evitare rischi di imprese ambientalmente poco sostenibile ma di fatto quell'idea ha sfondato per questo oggi dobbiamo piantare nuovi semi perché i semi che piantiamo sono le piante e che daranno frutti nel futuro grazie grazie